È tempo di festeggiamenti per l'Eroacqua e Piacenza Baseball, che nei giorni scorsi ha celebrato l'atto conclusivo della stagione sportiva 2017 con la premiazione di protagonisti dell'ultima annata. All'appuntamento, di scena presso l'auditorium Sant'Ilario, hanno sfilato tutte le squadre biancorosse, dalle giovanili sino alla prima squadra, con la società di baseball piacentina che ha colto al volo l'occasione anche per festeggiare il 45esimo anniversario della propria fondazione. Il 2017 è stata un'annata molto positiva, sia per la prima squadra e forse ancora di più per le giovanili. Abbiamo partecipato a tutte le categorie a livello giovanile. Il Fiore all'Occhiello è stata la conquista del terzo posto a livello nazionale con l'anno 18. Quindi siamo arrivati a disputare la Final Four, avevo perso contro la squadra che poi ha vinto lo scudetto l'anno 18. Quindi è un grande risultato. Un grande risultato, anche soprattutto, come ha detto lei, in ottica futura, in ottica giovanile. Si sta impostando veramente un settore giovanile importante per poi andare a comporre la squadra che sarà. Sì, penso che sia giusto, soprattutto per la nostra squadra, combinare l'esperienza dei giocatori che ne hanno di più a quello che è l'entusiasmo e la voglia di fare di quelli che invece hanno qualche di meno, quindi dei nostri giovani. Quindi per il 2018, a parte l'attività giovanile, che ovviamente proseguiremo, faremo in modo di potenziarla. Ma per quanto riguarda la prima squadra, l'obiettivo è proprio di combinare un giusto mix tra esperienza e gioventù. Sicuramente faremo la Serie C. C'è la possibilità che stiamo valutando nelle prossime settimane, anche forse, di fare la Serie B. Però non vi voglio sbilanciare. Per adesso facciamo sicuramente la Serie C. Con questa chicca svelata dal proprio presidente, l'eroacque si congede dal 2017, nella speranza che il futuro possa essere più biancorosso che mai.